E la bottiglia Flo, esposta nel padiglione della Coldirette all'Expo di Milano, il simbolo della campagna Solo olive italiane, promossa da Simbola, la Fondazione per le Qualità Italiane e Unaprol, il consorzio olivicolo italiano. Un progetto avviato nel 2013 e rilanciato grazie al nuovo sito web e social che manda ai consumatori un messaggio Bisogna valorizzare l'olio extravergine di oliva 100% italiano. L'olio, sottolinea Unaprol, è il prodotto alimentare che più di ogni altro subisce adulterazioni. La confezione diventa parte integrante anche del contenuto, è sicuramente un esempio di marketing molto attento dove comunque vengono messe in risalto degli elementi necessari alla sopravvivenza dell'olivicoltura italiana quindi etichettatura chiara, elementi nutrizionistici e sicuramente sostenibilità perché la bottiglia è fatta con dei materiali ecosostenibili. E parlando di qualità dell'olio italiano non si può non parlare di Puglia e dei problemi che il batterio della Xilella sta portando al territorio. Noi abbiamo la maggiore produzione italiana nonostante il calo dello scorso anno al netto della Xilella. Sulla Xilella vorrei fare una riflessione. Noi non possiamo più perdere tempo, ce lo chiedono tutti, ce lo chiede l'Europa. Lo so che a volte si fa fatica a prendere delle decisioni ma noi dobbiamo applicare il piano Silletti, non abbiamo più tempo da perdere. Solo così, insieme alle misure che abbiamo messo in campo su Xilella e sul piano olivicolo nazionale che aiutano gli olivicoltori, noi possiamo far risollevare l'olivicoltura dell'ambito salentino.